musica bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video oggi sono qua per presentarvi questo MAN TGS diciamo per la per la foresta, diciamo per la vostra carriera per la legna, diciamo per il trasporto legna allora il pack comprende questi tre carri aggiuntivi oltre a quello che è installato sul camion comprende questo carro da 6 metri per il trasporto di tronchi da 6 metri poi questo carro che è da 7 metri per il trasporto sempre di legna e questo che è per i tronchi più lunghi poiché non ha la sbarra dietro quindi potete caricare i tronchi più lunghi che volete invece questo è il camion in sé devo dire che ha molte funzioni come vedete con X potete aprire i bracci di sostegno a cui vi stabilizzano il camion quando siete in fase di carico come vedete con i bracci e tutto si apre anche proprio il diciamo tutto il sto uomo qua sto agricoltore delle balle qua scusate però ecco si vede proprio davvero bello salve ti devi rifare la barba ok comunque si vede proprio bello l'animazione tutto cioè quando voi voi aprite queste sponde qua diciamo viene fuori il si apre diciamo questo come vedete si apre e viene fuori il diciamo il ragazzo qua devo dire che ha molte molte altre opzioni come vedete con un pad 8 potete diciamo attivare queste luci di emergenza come volete chiamarle con un pad 7 avete la luce sulla sulla gru quindi come vedete si sposta in base e con un pad 4 avete le luci laterali come vedete sono queste è vero bello comunque abbiamo anche con GTRL poi cliccate in un pad 4 potete togliere questa diciamo griglia di protezione qua sopra invece con un pad 7 togliete questa griglia sempre di protezione qua scusate invece con un pad 8 diciamo cambiate la posizione di questi bracci qua che ci sono dietro per il sostegno delle piante quindi li potete scambiare come vedete e quindi diciamo molte opzioni potete utilizzarlo in tutti i casi che volete quindi diciamo c'è molte molte opzioni davvero bello poi come diciamo lampeggianti abbiamo questi che sono davvero davvero fatti bene diciamo non abbiamo le animazioni proprio reali però ci accontagliamo di questi dato che sono davvero belli lo stesso comunque devo dire che sono davvero fatti bene non abbiamo moltissime moltissime cose però diciamo con questi potete già fare una vostra bella carriera con la legna quindi trasportarla venderla eccetera diciamo magari potete anche agganciarne uno questo qua magari più grande lo portate lo vendete e niente quindi a mio avviso molto utile niente ragazzi per questo modere vi è tutto spero di essere stato chiaro commentate iscrivetevi e lasciate un bel like ciao a tutti ragazzi alla prossima ciao ciao